Io conosco dove tu abiti Apocalisse capitolo 2 versetto 13 Il Signore opera in tuo favore Queste parole sono state rivolte dal Signore Gesù glorificato a dei credenti che in quel momento vivevano in un contesto molto difficile Sapere che Dio conosce i nostri sentimenti e in quale condizione ci troviamo infonde nel nostro cuore una grande pace Il Signore sa dove abitiamo Egli pogge il suo sguardo benevole sulla nostra vita Sa come e quando intervenire in nostro favore Non dobbiamo avere paura o essere scoraggiati se stiamo attraversando una prova Perché Dio sa Ti trovi in una grossa difficoltà e non sai cosa fare? Stai pagando le conseguenze dei tuoi errori Sei preso dai sensi di colpa? Dio ti conosce perfettamente Sa dove ti trovi Desidera sostenerti e prendersi cura di te Affidati a Lui con tutto il cuore Invoca la Sua grazia Ed Egli che conosce ogni cosa della tua vita Opererà in modo potente per te Invoca la Sua grazia Invoca la Sua grazia Grazie.